Allora, buonasera, buonasera di nuovo, come vi avevo annunciato questa sera c'è una trasmissione con più ospiti, un Libri al Pub, questa trasmissione Libri al Pub con ospiti internazionali, estratti diciamo così, colti e strappati da un lavoro di raccolta firme, tranne appunto della militanza radicale, abbiamo come ospiti Angelo Rossi di Libra Aperta, l'Associazione per l'Italia Marta Gemma di Roma e qui Libra Aperta, l'Angelo Rossi di Roma e Marta Gemma di Sera Calabria, anche qui Libra Aperta, l'Associazione per l'Italia Radicale. Allora, abbiamo aperto questa serata diretta, non so se tutti i ospiti hanno seguito, con la virgola di piettore un pochino propedeutica a questa trasmissione, leggendo qualche commento recente di militanti, di dirigenti più o meno eletti, consigli regionali e così via, relativamente all'ultima dichiarazione, all'ultima decisione, insomma quella lì di, che è stata poi annunciata anche da Marco Pannella sulla teoria radicale, di in qualche modo apparentarsi tecnicamente, poi mi pare di aver capito questo, per quanto riguarda la regione Lazio, con Storace. Però questo è soltanto l'ultimo, diciamo, fatto, quello forse più recente, forse non più eclatante, più recente, di una vicenda pre-elettorale radicale. Io, infatti, in questo, non in questo titolo, proprio di questo argomento, voglio parlare in modo generico, infatti quando ho invitato gli ospiti ho detto parliamo della vicenda pre-elettorale radicale. Siamo partiti dalla dichiarazione che abbiamo fatto, che abbiamo avuto qui, come in questo piccolo scoop di Mario Saterini, del recupero del simbolo della rosa nel pugno per andare a queste elezioni politiche, qualche settimana fa. Da allora sono successe varie cose. Io vorrei cominciare questo giro di opinioni, avendo un'oretta più o meno a disposizione, un primo giro di 6-7 minuti a testa, partendo da Angelo, poi Marta, poi Marco, per sapere un pochino, sentire un pochino che ne pensa, in modo generico della produzione di questa prima parte di propedeutica di campagna elettorale e poi magari andiamo un po' sullo specifico, sugli argomenti e sulle notizie un po' più recenti. La parola a te, Angelo. L'avvento della rosa nel pugno è stato, almeno per noi qui ad Arezzo, una cosa meravigliosa, perché eravamo in piena depressione e penso come gran parte del movimento radicale, dopo il congresso di radicali italiani. Insomma, le cose non è che andassero benissimo. C'era una stasi che era veramente quasi insopportabile, poi tutto in un tratto c'è stata un'accelerazione potente, derivata sicuramente dallo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella e tutto il tantamme mediatico che ne è derivato, però l'annuncio della presentazione della rosa nel pugno è quello che noi pensavamo da tantissimo e che speravamo da tantissimo e che in tutte le sedi da un anno a questa parte ci siamo fatti carico di sollecitare. Ci è sembrato tardivo, tardivo, infatti lo è stato. Infatti hanno parlato chiaramente che era veramente troppo tardi per costruire una piattaforma politica, che era quello che noi volevamo, tuttora vogliamo, che era quello che andando avanti si è materializzata la lista di scopo. Anche in quel caso lì c'è stato un dibattito interno molto accesso anche all'interno della nostra associazione che ha portato comunque a un'adesione più o meno totale alla lista di scopo, perché comunque sia noi pensiamo, e quando dico noi dico proprio tutto il gruppo, che sia veramente importante cercare di supportare in tutti i modi possibili le iniziative radicali, in qualunque forma esse si manifestino. Anche se non siamo particolarmente d'accordo, e questo ho avuto un modo di dirlo a più riprese, posso dirti che noi eravamo al 100% sulla rosa del pugno, molto molto meno sulla lista di scopo. Questo comunque non ci ha frenato, noi ci siamo comunque, siamo per strada a raccogliere firme, anche quelli che non sono un accordo con la lista, per uno spirito di gruppo, comunque sia per un senso di appartenenza che noi sentiamo molto forte. Ci siamo tutti lì e stiamo avendo un grossissimo risultato devo dire ad Arezzo, perché noi ci siamo mossi un po' tardi, ci siamo mossi ieri l'altro, cioè in due giorni e mezzo di raccolta firme con tavoli comunque non più lunghi di due ore ogni giorno, abbiamo già superato le 220 firme che per una città di 100 mila abitanti e basta come Arezzo, praticamente contiamo di fare un terzo delle firme della Toscana solo come Arezzo, probabilmente. Questo sarà molto molto determinato per la nostra regione. Di questo voglio ringraziare appunto tutto il gruppo di Liberaperta, un gruppo affiatato che da 13 anni è insieme e lavora su tutte le iniziative radicali e è bello anche questo spirito che ci unisce comunque nonostante, penso siamo ipercritici, ci troviamo in posizione anche di completo disaccordo come quest'ultima fate e io non intancherò mai di ripeterlo, comunque sia, giocare al massacro non funziona, non funziona ragazzi, la critica deve provenire in un modo costruttivo e così la vediamo noi. Noi saremo molto critici e lo saremo tantissimo dopo queste elezioni, però adesso ci siamo tutti rimboccati le maniche e siamo a prendere le firme e siamo con questa lista. Ok, allora, a questo punto ho anche spagnato qualche minuto, la parola ovviamente a Marta. Dunque, la mia storia invece va un po' al contrario rispetto a quella di Angelo, nel senso che quando ho sentito Mario e poi anche, mi sembra lo stesso Pannella all'inizio, abbia parlato di ritorno della rosa nel pugno, un po' si era paventata questa cosa, l'ho accettata comunque di buon grado, è sempre una cosa bellissima per me la rosa nel pugno, però vorrei ricordare che io un paio di anni fa, proprio in tempi assolutamente non sospetti, ero membro del Comitato Nazionale e nel mio primo e unico intervento ho parlato esclusivamente della possibilità secondo me di una lista che non l'ho definita di scopo, ma che in realtà significava questo, io ho parlato della lista per l'amnistia e avevo suggerito, era solo un suggerimento in realtà perché era veramente troppo presto per dirlo, nessuno ne parlava, però visto che eravamo tutti impegnati da oltre un anno e mezzo proprio attivamente sulla battaglia dell'amnistia, ho detto visto che non sappiamo cosa fare, con chi organizzarci per le prossime elezioni, si parlava già di elezioni, avevo suggerito di creare delle liste e da lì il nome di lista amnistia, poi un giorno lo riposterò anche su Facebook e su tutti i social network, questo mio intervento che devo cercare, ce l'avrò da qualche parte, però nessuno naturalmente aveva dato troppo peso a questo intervento, quindi quando ho sentito parlare di rosa del pugno comunque sono stata contenta, non è che mi dispiacesse la cosa, però quando poi la rosa del pugno è stata scartata perché è arrivato quest'altro tipo di scelta, quando si è preferito parlare per la lista di scopo, sono stata strafelice perché questa era la mia idea originaria, forse naturalmente sapevamo già, sapevo già e sapevamo già in un momento in cui proponiamo una lista di scopo che è difficile, è difficile da spiegare, è difficile da motivare, è difficile da far capire, però non è che noi radicali ci spaventiamo davanti a… figuriamo che questo per noi è un problema, questa è la vita per noi, quindi la lista di scopo è difficilissima, ma per noi praticabilissima, solo per noi, nessun altro potrebbe fare questo, nel panorama politico italiano, naturalmente all'estero non lo so. mi rendo conto che però forse uno dei tanti problemi della lista di scopo è quello che è quella della riconoscibilità al momento del voto, e cioè il simbolo così come è stato creato, visitato più volte, modificato eccetera, al letto di ogni giudizio personale su quello che può essere l'estero dalle blu, o la rosa nel pugno rimpicciolita, dove non c'è più il pugno eccetera, resta radicale, scritta pannella, non c'è nessuna cosa, questo fa un po' una pecca diciamo, mi sarebbe piaciuto leggere Radiali e Amzia, a me personalmente, però non lo so, qualcuno forse avrebbe preferito pannella, ammestia, a me personali, forse doveva starci anche un altro tipo di scritta oltre all'ammestia, però per il resto io sono favorevole, era quello che pensavo tempo fa, poi è chiaro, quando poi si è a questa scelta a livello nazionale del partito, poi non è che esattamente come l'avevo suggerito io, poi ognuno ci mette un po' del suo, poi i dirigenti la organizzano, stanno attenti ad altre cose, tutto stato, io sono attenta di questo, sono stata favorevole, poi vabbè, si discute anche del fatto che forse la lista ammestia, giustizia e libertà nelle regioni, tipo Lazio e Lombardia è poco, però è una discussione un po' sterile, anche questa è una cosa da spiegare, ma comunque è facilmente comprensibile, non è che noi pensiamo di portare l'amnestia nella regione, perché la regione ha nessun potere, sull'amnestia lo sappiamo, ma significa sempre portare i radicali che stanno promuovendo a livello nazionale l'amnestia anche nella regione Lazio e nella regione Lombardia, tutto qui, queste critiche le trovo veramente un po' fuori luogo, un po' sterili, tanto per contestare, ci troviamo in fase di contestazione del partito e contesteremo pure questo. Per il resto poi sono successe talmente altre cose, al di là delle ultimissime, quelle della regione Lazio, poi entriamo in un altro discorso. Sì, sì, lo toccheremo, dopo passeremo. Vai, se hai finito, passa a Marco. Sei finito? Va bene, Marco, a te. Che dire, ci servirebbe tutta l'ora? No, no, scherzo naturalmente. Allora, io voglio dirvi questo qua, io mi sono trovato, vabbè, stasera fra l'altro sono anche un po' distratto perché chiaramente viviamo un momento di assoluta fibrillazione, cioè le firme per esempio, lo do come notizia, in Calabria, io mi sono trovato quasi incidentalmente, voglio dire, a coordinare questa raccolta firme qui in Calabria, poi proprio io che negli ultimi mesi sono stato molto critico proprio nei confronti della gestione di molte aree radicali, però se ne esce fuori se uno ragiona, come posso dire, se uno non imputa tutto quanto a radicali italiani, però poi dopo c'è sempre il solito discorso che qua ci sono i dirigenti radicali che, non lo so, se stanno seduti al tavolo di radicali italiani c'hanno la giacchetta blu, poi se stanno alla coscione c'hanno la giacchetta viola, poi se stanno dall'altra parte c'hanno la giacchetta verde e via discorrendo. Non voglio divagare molto, allora le firme in Calabria sono 4,61 su 1.000, per cui siamo a poco meno del 50%, senza quota di sicurezza e abbiamo a disposizione domani e domenica qualcosina per finire la raccolta. Siamo veramente pochissime persone e domani probabilmente qualcuno dalla destra per tutto quello che è successo nelle ultime ore per simpatia, per grazia ricevuta, per non so che cosa ci darà la mano e vediamo se riusciremo a presentare liste Amnistia, Giustizia e Libertà in Calabria. Com'è che nasce questa cosa? Non posso dire chiaramente alla persona perché non è presente, mi telefonano qualche giorno fa e questa persona che mi telefona mi dice Marco, ho da chiederti due cose, prima però per i prossimi 5 minuti sei autorizzato ad insultarmi in tutti i modi possibili e immaginabili. Questo qui un po' mi ha colpito al cuore, facciamo una cosa, come si fa nei congressi radicali dove arriva a un certo punto ci sono 48 mozioni particolari, si danno per lette. Allora ho detto guarda diamo gli insulti per lette, per detti, allora dimmi di che cosa è bisogno e poi siamo passati dalla disponibilità ad andare a depositare le liste, ad occuparmi perché poi è un gorgo, ti arriva questa cosa e tu vieni risucchiato completamente e totalmente in questo ambararan. Poi alla fine i radicali fanno così perché dobbiamo pure prendere atto che in tutti i militanti, ma anche quello più restivo a considerarsi militonto, ho un po' quella componente militonta e ce la dobbiamo dire, c'è in tutti noi, ma vuoi per affetto nei confronti del nostro padre padrone Pannella e bisogna dirla questa parola, non bisogna nemmeno avere paura perché poi un padre padrone non è mica detto che è cattivo. L'importante è che uno ci si senta più o meno, dico non proprio completamente, ma più o meno a proprio agio, però bisogna dire le cose come stanno perché nell'area radicale, non i radicali italiani, nell'area radicale noi abbiamo un grossissimo problema, di capire chi decide che cosa e secondo quale procedimento. Nasce la lista amministia, giustizia e libertà, ma io non lo so se dietro c'è l'associazione politica lista Pannella, perché poi dobbiamo capire a chi è che potrebbe andare il famoso rimborso elettorale o finanziamento pubblico, come lo vogliamo chiamare. Poi però chi decide c'è il gruppo dirigente che gestisce tutta l'operazione radicali italiani, ma sei tutto azzardo a dire, scusate, ma radicali italiani non è stato nemmeno convocato, ti viene spontaneo dire, nella situazione in cui siamo qua tu dici, ma il comitato nazionale non è stato convocato, o dici una cosa del genere e ti tagliano le mani da qua e ti strappano le corde vocali perché dici, no radicali italiani non c'entra un cazzo perché non è radicali italiani che si presenta alle elezioni, ma è quell'altro soggetto là, però lo gestisce radicali italiani e poi trovi Staderino e De Lucia che decidono, voglio dire molte cose, però c'è il comitato nazionale di radicali italiani che è l'unico organo un po' parlamentino che dovrebbe parlare per discutere certe cose e invece queste cose le discutono soltanto una cerchia ristretta di dirigenti dove tu fai veramente fatica a capire come si arriva a determinati processi, poi io, noi che abbiamo le mani in pasta e che ci alimentiamo, voglio dire, il nostro cervello con le cose radicali attraverso la lista Facebook, l'ufficiale o non ufficiale che sia, radio radicale, andiamo alla ricerca delle notizie, notizie radicali, cioè noi che ci alimentiamo di tutte le informazioni radicali che ci vengono a noi, riusciamo a concepire che cazzo significa l'apparentamento costorace, ma io che oggi stavo in un negozio con una, che figlia mi dice, ma proprio di petto, ma tu mo' me lo devi spiegare che cazzo c'è in trastorace con voi, perché lo fate questo apparentamento? Io faccio fatica a spiegarglielo perché quella signora là, per capirla, dovrebbe fare un training di almeno sei mesi di alimentazione, di informazione radicale come facciamo, come siamo abituati noi per capire una cosa del genere. Quindi qual è la difficoltà maggiore? Il gruppo dirigente, questa cosa qui non la capisce, così come quando si sono prese decisioni dove per settimane poi a noi ci salva la cosa, il popolo italiano è il popolo più smemorato che esista, ci salviamo proprio su questo, decisioni che sono state prese in Parlamento dal gruppo parlamentare che noi comprendiamo, il resto degli italiani non hanno compreso proprio nulla e noi abbiamo passato settimane a prenderci anche insulti. Il gruppo dirigente deve pure porsi certe domande e cercare pure di capire che noi ad ogni passaggio che facciamo di questi difficili, negli ultimi anni il risultato è stato, e utilizzo delle parole di Michele De Lucia, che la cito la persona più indicata per quello che voglio dire, ogni passaggio difficile che facciamo è una fettina di iscritti che non ritornano più e che vanno da altre parti, è qualche dirigente che va via e che non ritorna più e ci troviamo sempre di più con un movimento nel suo complesso alla totale e completa disperazione. Gianni, io non so se sono nei tempi. Guarda, hai ancora 40 secondi. 40 secondi, benissimo, quindi che dire, alla fine poi stiamo tutti quanti qua per affetto, però veramente siamo diventati un movimento politico più o meno di 1500 persone e oggi ci sono associazioni che si occupano non di politica, che si occupano di cazzate che fanno molte migliaia di persone e dobbiamo porci la domanda sul nostro futuro, perché come dice il buon De Lucia qui il ritmo della consunzione è diventato talmente elevato che rischiamo il dissolvimento. Ok Marco, allora la cosa ovviamente è entrata spontaneamente, era prevedibile un pochino più nello specifico, Marta ha parlato un pochino del simbo anche su quello ci sarebbe da dire e effettivamente su quella che appare abbastanza una cosa macroscopica per lo meno evidente che un pochino sembra la voglia di mimetizzare tutto ciò che possa chiamare radicali, se non per il fatto dell'amnistia, ma insomma il simbolo della rosso nel pugno all'inizio c'era piccolino, poi quasi scomparso, sempre più piccolo, niente di chiamare radicali, che comunque sia potrebbe aiutare anche per recuperare i voti di una certa militanza. Marco a posto il tema, è importante anche dei processi decisionali, come ho detto nell'apertura, su questo magari volevo fare il secondo giro, leggendo le varie dichiarazioni nella virgola del direttore, ci sono state dichiarazioni che sono state anche della dirigenza, non tutte univoche, nel senso che non tutti erano d'accordo, mi pare di aver letto che sugli eletti deputati e senatori due non erano d'accordo, era appunto Emma Bonino e Matteo Mecacci, se non sbaglio, ci sono state anche Staterini, per quanto riguarda la singola cosa, ricordiamoci che questa cosa di storace riguarda il Lazio, quindi praticamente un discorso amnistia che passa per la regione Lazio, c'è stata una certa spaccatura, mi viene da pensare anche, facendo forse un paragone un po' addirittura, che è una spaccatura, spaccatura dell'attività di Tammati, che è un'attività, un'attività, un'attività di Tammati, che si è risposta in una ricerca importante all'ultimo periodo di Tammati, in occasione dell'inserimento della mozione che esplicitava la non candidabilità di radicali italiani a elezioni. Quindi praticamente non c'è più una dirigenza che è tutta quanta unilocamente orientata verso certe decisioni, ma sui processi decisionali è molto importante, che ci vengono comunicati, però magari probabilmente la base è poco ascoltata, la base è che sono i militanti che poi raccolgono le firme. Angelo, cominciamo il giro con te, che ne pensi? Che ne penso? Che io francamente penso che vorrei un partito a 360 gradi, perché i radicali hanno una storia, una cultura e soprattutto hanno una molteplicità di punti che potrebbero veramente fare breccia in Italia adesso. Non solo racchiappando la vecchia militanza, che quello sarebbe già il minimo, perché arriveremo al 20% di chi appassero tutti gli ex radicali che ci sono in Italia. Il punto è che noi veramente abbiamo dei punti essenziali. Voi riprendete il programma del 2001-2002, che era composto di 25, non un punto, ma 25 punti spaziavano dalla giustizia dove c'era questo punto. Ma c'era l'economia, c'erano i diritti civili, c'era di tutto. Io voglio questo, perché è questo che è in grado di poter dare il partito radicale in Italia, che non vuole esistere in Italia, che ci impediscono che... Non lo so, c'è quasi una vergogna essere radicali, ci hanno espropriato di tutti i simboli e anche in quest'ultima... Cioè, si parlava del simbolo prima. Il simbolo è palesemente... Non lo so, c'è un richiamo alla lista... Noi si cita la bandiera della vecchia lista Bonino, no? È quasi sovrapposta a quella, le assomiglia a parte che cambiano un po' di viciture. Cioè, c'è questo dualismo per il quale siamo noi, sì, ma non siamo noi. Noi si dice che siamo i radicali, anche perché le liste, poi alla fine, parliamoci chiaro, gli amicone, i supereroi che si erano introdotti, diciamo così, in questa lista di scopo, dove sono? Non ci sono, siamo tutti radicali. Allora Angelo, fermo un attimo perché volevo salutare Riccardo Macchioni che ci ha raggiunto, un po' in ritardo, ma ci ha raggiunto. Riccardo, ci senti? Sì, vi sento, però ho delle difficoltà con il video perché sono col cellulare e di più non sono riuscito a fare perché ho raccolto firme fino a dieci minuti fa. Ok, d'accordo. Senti Riccardo, allora stiamo facendo un giro, tu puoi tenere il collegamento fino alla fine della remissione? Per quanto tempo più o meno? Ma ancora più o meno un tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora va bene, anche perché domattina devo andare a Bologna e indovina a far cosa. Immaginiamo, immaginiamo. Va bene Riccardo, ora stava parlando Angelo Rossi, siamo collegati con Angelo Rossi, Marta Gemma e Marco Marchese. Diciamo che, ecco, per darti la possibilità di parlare, visto che sei col cellulare, se Marta e Marco sono d'accordo ti inserirei dopo Angelo. Va bene? Ok, allora facciamo finire. Angelo, stavamo parlando del simbolo dei procedimenti decisionali per questa vicenda preelettorale radicale. A te Angelo e dopo passiamo a Riccardo. Vai Angelo. Sul simbolo ti stavo dicendo, è una lista di scopole che non è riuscita comunque a aggregare null'altro che radicali. È una lista quindi radicale, al 100%, si si escluda Albertazzi nel Lazio, pochissimi altri esempi. Quindi è stata veramente una cosa incredibile, perché se pensiamo che noi potevamo essere da due o tre settimane a raccogliere firme, tranquillamente, non essere in questa condizione, che lo dico proprio materialmente, e ci siamo soltanto perché ci devono essere dei supereroi che comunque non ci sono e alla fine siamo solo noi, perché siamo solo noi. È una lista radicale questa. Noi ci proponiamo infatti nell'accolta firme e noi diciamo noi siamo i radicali. Date un voto per i radicali. Un voto, scusa, una firma per i radicali, magari, e un voto che lo sarebbe già un passo in avanti. E io ti posso dire che c'è una risposta incredibile. La gente ha capito, ha capito benissimo. E la gente comunque ci segue nonostante tutto, come anche noi su questa cosa, nonostante tutto, però è di un'evidenza palese che tutto questo stato di cose, prima o poi, cioè dovremmo arrivare, ragazzi, diciamoci chiaramente, primo po' a un superamento di Marco Pannella, oppure no. Io dico di sì. E comunque sì, la spaccatura che è avvenuta adesso, io posso solo commentarla con... e solo la metà della dirigenza ha seguito da Emma Bonino. Dico solo perché lo trovo, è conveniente che solo la metà della dirigenza abbia preso posizione perplessa su un fattore, vabbè, che comunque è locale, anche noi ce ne frega, non ce ne frega niente, insomma, è Lazio. Noi siamo toscani, fate una cosa locale voi, ve lo sciucciate voi e lo storace. Però, ecco, non ci prendiamo in giro, cioè prima o poi, e secondo me il momento è abbastanza vicino. Secondo me il momento è vicino, io penso che se adesso rifacessimo il congresso dei radicali italiani che c'è stato a novembre, probabilmente il risultato di quella votazione che ricordo è finita 103 al 100, sarebbe diverso e ci posso scommettere qualunque cosa. Cioè, ragazzi, il punto è uno solo, adesso abbiamo seguito completamente Marco, per rispetto, per tutto quello che ha dato, per tutto quello che rappresenta, per chi è, insomma, metteteci tutto quello che volete, però è giunto il momento di superarlo. Se non emergono nel nostro movimento delle energie o delle figure che sono in grado di poter fare tutto questo, vuol dire che il movimento forse non ha neanche bisogno, non serve neanche che vada avanti. Non so se mi spiego. Sì, 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 Angelo, si è spiegato benissimo. Non è all'interno che la colpa è la nostra, la colpa è solo la nostra, non si può imputare a Marco Pannella, come sento dire a molti, è lui, è il dittatore, eccetera. Sì, ma siamo in tanti, voglio dire. E allora se non riesce a emergere nessuno in grado di contrattarlo a 84 anni e con tutto quello che è, è un macello. Vuol dire che non siamo all'artezza. Volevo passare la prova a Riccardo, Angelo. Ok, scusami, ciao. No, no, ci mancherebbe. Riccardo, niente, hai sentito un pochino di quello di cui stiamo parlando. L'ultimo intervento è perché ero a cena e ho raccolto firme fino a un attimo fa, quindi da noi la raccolta, diciamo così, mancano due giorni e si sta facendo abbastanza incoraggiante perché secondo me il risultato ci siamo e lo superiamo anche. Però quello che mi ha fatto specie, più che il discorso spaccatura, è che si veda il caso del Lazio anche a sé, non per forza collegando un discorso nazionale. Se Zingaretti ha detto io Rosso di Vita e Berardo non li voglio, perché ha detto di fatto voglio candidati tutti nuovi perché quelli che c'erano prima hanno fatto il merdone, compresi Rosso di Vita e Berardo, anche se non l'hanno fatto, ma l'hanno fatto emergere e sono da fare fuori. Mentre Storace ha detto, Pannella, vi prendo così come siete, tali e quali, fate i radicali, non dovete fare quello che voglio io, io vedo tutta una serie di persone che, hashtag io sto con Marco, salvo poi Marco però deve fare quello che voglio io, non quello che vuole Marco. Quello che sta di più con Marco in questo momento, più di persone che si sono circondate, si sono attornate a Marco Pannella, a questo punto è Storace. Cioè io vedo più sto con Marco da parte di Storace che non da compagni. E Marco non è che è andato lì a fare al TG5, l'ho visto oggi, a elogiare Storace con appesa al collo la foto di Storace, ha ringraziato Storace che è stato l'unico a tendere la mano a Pannella con al collo il cartello della lista amnistia. E poi diamo del fascista a Storace, quando poi abbiamo magari una Bindi, noi veniamo da un discorso di alleanza con un centrosinistra o meglio con un Bersani e prima Veltroni con la Bindi che ci dà degli stronzi così, che a quanto pare questo status quo in questo tipo di alleanza, chiamiamola di centrosinistra, a queste persone faceva meno schifo che non di Storace che addirittura è un cattivo fascista. Per me io li pongo tutti sullo stesso piano, cioè dal punto di vista di ideologismi e questioni contro i radicali, la situazione rimane tale o quale, identica con Pannella che essendo liberale, perché liberale può stare con i fascisti, può stare con i comunisti, che continua ad avere le sue idee e non se le fa contaminare da nessuno, perché è liberale. Io non vedo laicità in questi candidati o persone che raccogliono le firme che improvvisamente le vengono a togliere perché Pannella si è azzardato ad accettare la proposta dell'unico che gli ha fatto che era a Storace. Io vedo solamente che noi qua in Emilia Romagna stiamo raccogliendo le firme sotto la neve e un ragazzo che oggi ha raccolto le firme addirittura stava andando a prendere i certificati elettorali in montagna, ha fatto un incidente, gli è finita la macchina nel fozzo, ci stiamo facendo un culo della Madonna e riusciamo a raggiungere le firme, ma poi c'è una ragazza che ha deciso di togliersi dalla lista per questa cosa di Storace, allora per il discorso di Quaterosa altra cosa bellissima, ci tocca di togliere due maschi perché se no non si riesce a presentare la lista e via alle, ma lui non si vuole più candidare perché c'è Storace e Pannella, ma Storace e Pannella per me lo vedo come un pretesto, qui ci sono storie vecchie di radicali che sono radicali perché sono iscritti, ma che comunque oltre a essere radicali secondo me sono più comunisti, io vedo quella famosa categoria di persone di sinistra che non trovano pace fra gli olivi da nessuna parte, questo io vedo e io sto con Marco, io sto con Marco anche se va con Storace perché Marco non si trasforma in Storace, Marco rimane Marco anche se va con Storace, ecco quello è, basta. Ho capito, grazie Riccardo, allora Marta. Marta ti posso interrompere un attimo, non ti sentiamo. Allora, le cose sono due, tu hai anche il sito di LibriTV aperto? No. Ok, allora prova a avvicinarti al microfono, continua in estremis, è drammatico ma dobbiamo togliere il video e continuiamo con l'audio. Provo a parlare adesso più vicina, vai. Sì, dunque sono d'accordo con Riccardo, volevo dire in realtà insomma per agganciarmi al discorso di Angelo e invece io trovo sicuramente sorprendente il fatto che metà, quasi metà della direzione, di oggetti, di agganciarmi si siano agganciati alla posizione di Emma Bonino anziché quella di Pannella. Diciamo che è completamente capovolgo con la posizione di Angelo, senza non ricordare d'Angelo, per carità. E proprio continuando ad agganciarmi al discorso di Angelo, possiamo dire che se noi riusciamo a trovare un'alternativa alla direzione di Marco, che in realtà fa il settore, come tutti sappiamo, è inutile, chi lo vuole negare, chi lo nega, ho senza i 60 anni, ho riuscito con tanti, con i massimi contestatori, nei decenni, non negli anni, nei decenni, perché io sono 20 anni che sono radicale, i contestatori ne ho visti a go-go e nessuno di loro è riuscito a creare né un'alternativa alla direzione di Marco Bonino, partito radicale alternativo a quello che è stato stesso, allora devo fare un'alternativa a noi, chi si esce deve farsi una domanda per creare questa domanda. Inoltre mi aggancio all'esporto di Angelo, invece per rispondere a Marco, riguardo il fatto che oggi una signora diceva, ma adesso come me lo spiegate questo discorso di storace, questo è un problema che riguarda noi tutti, ma che non è un problema, perché come ha detto Riccardo, che è stato libero che stiamo, i basti sono, i comunisti e non siamo da sinistra, non sta scritto da nessuna parte che quando siamo, non siamo da un posto, chi è mai fatto? Io ci devo dire proprio che questo significherebbe smaturare il partito radicale, il partito radicale sono 60 anni che fa questa domanda, che cosa ci dobbiamo sorprendere, si sorprendessero gli altri che non ci hanno mai votato, è curioso, quelli che non ci hanno mai votato poi ci vengono a dire accidenti, siete proprio caduti in basso, e quando eravamo mai, non avete votato. Con me non attacca questo discorso, mi dispiace ma non mi tocca altrimenti. Io sono d'accordissimo anche con l'apparentamento con storace, certamente purché oggi il risultato si spera, forse l'apparentamento con Zicaretti ci avrebbe portato, come ho detto, in un'idea opportunistica, concreta, ci avrebbe portato qualche risultato in più, che Zicaretti pare che sia i punti più avanti rispetto a me neanche gli altri. Mi differenzio, è veramente la posizione in merito delle contestazioni che si fanno a Zingaretti, perché mi piace sottolineare che Zingaretti non ci ha trattato male, non sono d'accordo che Zingaretti ci ha trattato male, ci ha trattato come era giusto la sua a Zingaretti, senza difendere qualche posizione di qualcuno. Zingaretti ci ha dato la possibilità, diciamolo, noi non l'abbiamo voluta mai, ma è anche forse giusto, lei ci ha deciso di non andare… Marta, mi senti Marta? Sì, sì. No, noi ti sentiamo malissimo, purtroppo dobbiamo provare a farlo senza video. Ok. Sai come si fa? Aspetta che ci provo. Ah, sì. Devi cliccare sulla icona della telecamerina, brava, prova così. Allora, dove eravamo rimasti? Zingaretti, a mio avviso, non ci ha trattato male, è stato l'unico a sinistra ad aprirci le porte e tra l'altro facendolo, sapendo bene di avere supporto nel suo partito, perché diciamocelo chiaramente, il PD non ci sopporta, ci distesta, ci ha sganciato all'inizio nazionale, quindi era ovvio che lui ha forzato un po' la mano con i suoi per aprire a noi, però noi non l'abbiamo accettato, non è vero che è stato lui, secondo me, io la vedo così, perché è chiaro che se lui ha una regola per i suoi e la regola è generale, non vedo perché per i radicali dovrebbe fare un'eccezione, cioè lui dice, ma a me non sembra credibile, è pensabile che lui possa spiegare a noi che i PD uscenti sono stati tutti tolti perché erano tutti dei malaffari, però i due radicali li dobbiamo tenere perché sono veramente persone rette, pie e giuste, cioè è veramente chiedere troppo ad un leader di uno che non è nemmeno il nostro partito, cioè c'è la possibilità di entrare, se noi avessimo voluto, l'avremmo presa, avremmo preso altre due persone, come il nostro di vita in Bernardo, alle regioni ci sarebbero candidati a Zingaretti, che per noi sarà l'obiettivo di portare queste regioni e quindi se giunge il tema, anche che ha inserito anche Marta, è vero poi che Zingaretti ci ha chiuso la porta perché poi lui ha replicato a questa cosa di storace recente, diciamo a questa decisione, che non è vero che è chiuso, ma che ci stanno delle regole e non volevano fare un'eccezione e che comunque i radicali erano importanti, Marco che ne pensi? Non ti sentiamo Marco? Ecco qua, non ho tornato la voce, scusate, lo che dico è che noi ci troviamo adesso in una situazione in cui quello che resta dell'area radicale consunta, crepando e schiettando si trova qui a raccogliere firme e a cercare di fare un risultato, però non ci dobbiamo nascondere dietro ad un dito, nel senso che noi abbiamo veramente seri problemi di gestione di tutte quante a questa materia. Io ribadisco ancora il concetto, io che mi nutro di informazioni radicali, l'apparentamento costorace lo capisco e ci vedo un filologico, però se il nostro scopo è quello di entrare nelle istituzioni, noi non dobbiamo sicuramente, Marta, snaturare quello che è il nostro essere radicali, però ci dobbiamo pure confrontare con quelli che poi dopo i voti ce li danno e quindi non lo so, io non ho la ricetta, però di una cosa sono sicuro, nell'area radicale ci sono pochi spazi, adesso dico una cosa dove poi dopo me ne viene contestata un altro, andiamo per ordine. Nell'area radicale ci sono pochi spazi di discussione, a questa cosa qua uno dice, oibo, e gli spazi di discussione che ci sono negli altri partiti che sono praticamente nulli, almeno noi abbiamo il Comitato Nazionale di radicali italiani, piuttosto che se tu vai a vedere all'assemblea del PD come è sistemato, dove invece sono solo i dirigenti, va bene tutto, però ci dobbiamo anche dire che quello che ha votato, la pozione che ha votato il Congresso non è qualcosa che si stava propriamente avvicinando a quello che stiamo facendo adesso, è qui che mi mancano gli spazi, cioè quando si decide, chi decide che cosa, noi siamo tutti quanti avvitati intorno a quello che decide Marco, che poi ci può stare bene è un discorso, che a qualcuno poi può stare male è un altro discorso, diciamo che poi alla fine sta bene a tutti, però non dobbiamo nascondere questa che è una verità, noi siamo avvitati intorno a tutto quello che decide Marco, questo è un problema, io faccio l'economia di qualche minuto perché non bisogna nemmeno essere prolissi quando le cose è tutto qua. Allora, ricominciamo allora il giro con Angelo che ha ricaricato il video, ecco perfetto, adesso lo vediamo. Allora, ci sono state appunto varie fasi, questa ultima, anzi varie reazioni, tranne la militanza radicale a questa cosa di Soracio, che ricordiamo riguarda soltanto la regione e che io ho sentito che comporterà il fatto che le firme raccolte fino ad oggi dovranno essere buttate, cioè se ne dovranno riprendere altre. Allora, una cosa sono diciamo quelli che hanno gridato al fascista e quindi facendo un discorso obiettivamente poco consono alla storia radicale che comunque gli apparentamenti li ha avuti in passato con l'uno, con l'altro, tutto opinabile per carità, però insomma si può ascrivere a un'esperienza che già c'è stata. La cosa che forse però anche altri militanti si sono posti, magari coperta forse mal presentata urlando al fascista o che, ma poi alla fine questa operazione ci porterà dei voti o ce li farà perdere? Ecco, questo qui è un quesito che vorrei porvi e cominciamo con Angelo. Ma è un quesito che vorrebbe la sfera di cristallo, no? È anche molto potente, difficile da dirlo, cioè secondo me no, non ci faranno perdere i voti. Io spazialmente, l'ho detto anche prima, sono contrario, ma più per motivi, non perché è un fascista, ma perché dietro io ci vedo un progetto che è quello di cambiare asse e questo a me non piace, te lo dico molto sinceramente, ma non è un discorso di storaggio in sé, io penso che la cosa tecnicamente anzi sia anche valida, cioè il taxi può funzionare, questo può permettere a Rosso di vita e compagni di poter accedere al posto che sicuramente meritano, però è una cosa che è relativa, è regionale, a me interessa anche relativamente, cioè io capisco il vostro fervore quanto laziali, però non è una cosa che ci tocca particolarmente. Io penso più in generale, penso più in generale, mi andrebbe di rispondere a Gemma, che io non l'ho sentito tutto l'intervento, però ho percepito una parte e ho anch'io una ragazza come lei, una super pannelliana di quelle doc, perfetta, e ci discuto 3-4 volte alla settimana, quindi so esattamente cosa mi ha detto anche se non l'ho sentita, però quello che mi sento divirti Gemma, non è che necessariamente siamo contestatori o siamo della gente che è fuori di testa, probabilmente quello che ti vuol proporre, io penso, parla plurale perché sento anche tante persone che la vedono come me, è quella di riuscire a dare una prospettiva a questo movimento che vada oltre, non spiegato, è una cosa un po' diversa, cioè agganciarsi completamente a Marco in questo momento, non lo so, secondo me è una cosa debole, molto debole, bisogna cercare un attimino di superare questa faccenda, d'altronde il problema, anche quando si parla di democrazia interna, la democrazia interna non può esistere per un problema strutturale, il problema è strutturale, il partito, l'organizzazione di Marco, punto, da quel punto accetti questa faccenda, oppure poi non è che ti puoi lamentare troppo dell'assenza di democrazia, la democrazia è intrinseca, l'unico progetto che poteva dare un senso di democrazia a tutto questo è radicale italiana. Mi sentite? Sì, sì, sì. Ok, ci siamo tutti? Più o meno. Ok, credo che Riccardo ci abbia lasciato, nel senso che ha chiuso il collegamento, e tu Angela hai finito? Ma non lo so, se mi vuole chiedere qualcos'altro, se no io bisogna che abbandoni perché mi aspetta la versione ufficiale, Radio Radicale, mi sa che va lo sa. Allora no, vabbè, ti lasciamo. E lì ci sono tante belle cose sui numeri, ovviamente, perché noi si sta andando bene e siamo molto contenti per questa raccolta firme, che sta andando bene almeno dalle nostre parti, ci auguriamo appunto in Toscana di farcela, sento anche altre regioni che stanno andando discretamente bene, come anche l'Emilia Romagna, insomma, la sensazione è quella che arriveremo almeno nella parte essenziale, diciamo, delle regioni italiane a poterci presentare. E questa è una cosa, secondo me, fondamentale, importante. Ok, Angiolati, lasciamo a questa trasmissione di Radio Radicale, che è tenuta da Michele De Lucia, ricordiamo che è molto importante, è un collegamento in diretta con i vari militanti che raccolgono le firme, ci ricordano un po' la Radio Radicale dei tempi andati, insomma, almeno scalda il cuore. Grazie ancora Angelo e buona trasmissione in diretta con i vari militanti. Ci sono un po' troppi i tempi andati, ci sono, ce ne sono andati un po' troppi i tempi, bisogna forse recuperare determinate cose. Ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti, avanti a chi sta raccogliendo le firme, sotto la neve, sotto l'acqua e il vento, anche te in Carabia, forza ragazzi, avanti tutta. Ciao, d'accordo, ciao Angelo. Ciao, ciao, ciao. Allora, continuiamo con Marta, è ovvio che a questo punto siamo arrivati, diciamo, immaginavo che ci saremmo arrivati, ben piano, crescendo, approfondendo un pochino gli argomenti, alla solita vicenda partito carismatico e partito più o meno democratico, cioè il partito carismatico è il partito che si, in qualche modo, che è costruito intorno alla persona, leader carismatico, e Marco sappiamo che è un leader carismatico e che ha condotto sempre questo partito e molti si chiedono, effettivamente io lo leggo spesso, se questo partito anche, oltre Marco, potrà avere un futuro e alcuni lo escludono a prescindere, altri dicono che le idee meriterebbero una durata maggiore dei corpi. Ecco, tu Marta cosa ne pensi? Ma, io, a me questo, mi sentite bene? Insomma, cos'è così? Non tanto, vabbè, io però le cuffie, aspetta quel video, a me questo discorso non funziona molto, nel senso che lo trovo un po' impetitivo, non so voi, ascolto da circa 20 anni, da 20 anni, e anche un tannica intero giornissima, appena arrivata, appena arrivata, e c'erano grandi fasci radicali, che contattavano la canna di canna sia nel partito radicale, quindi è un po' più, è un tante, 20 anni, non so più, cioè veramente ce l'ho sentita in questo archivento, quindi diciamo che posso solo dire, posso solo dire che per me, la non si può fare di tutto, senza provviviri, senza essere cacciati, si può fare di tutto, e la decisione finale sia sempre di marco, cioè l'ultima decisione, anche se è vero, voglio dire, ma è relativamente vero, perché prende la decisione dopo aver ascoltato, comunque tutti sì, tutti no, dopo essersi consultato con i dirigenti del partito, a tutti non può anche non star bene, è chiaro, è ovvio, a me sta bene, a un certo punto questo discorso lo trovo, io l'ho superato, lo trovo superato, ma per me, perché dopo 20 anni ci ho riflettuto, ci ho ragionato, ho sentito tutti i provi e tutti contro e ho preso la mia decisione, tutto qui, poi è chiaro che chi vuole continuare a farlo, è libero di farlo, ci mancherebbe, però non è il mio discorso se devo parlare di partito radicale, non è il mio discorso, penso che il problema nostro sia invece quello un po' che diceva prima, cioè di spiegare alla signora, perché è vero che questo è un problema, e che non si può in 5 minuti spiegare a una persona che i radicali sono così da 60 anni, cioè noi non siamo mai omologati, non siamo mai conformati, non ci possono pensare sempre e solo in un modo, perché non lo siamo, non lo siamo, però è vero che c'è un problema di comunicazione con la massa, con le masse, che questo discorso non lo capiscono e per colpa nostra e per colpa degli altri, gli altri sono chi non lo spiega bene, certo le responsabilità sono anche nostre, certamente, quindi io lavorerei più su questo, non sulla mancanza di democrazia che francamente non mi interessa più tutto qui, però trovo legittimo, trovo legittimo, chi forse è arrivato dopo di me e non è stanco di sentire le stesse cose, quindi ripeto, oppure chi invece ancora le sente da tanti anni e comunque ci crede e quindi continuo a dirle tutto qua per carità. Marco, a te la chiusura, questi 6-7 minuti con cui poi chiudiamo. Scusa, sono caduto di nuovo nell'errore di prima, nel senso che avevo il microfono chiuso. Io guarda, io preferirei che chiudessi tu, prenderò soltanto due minuti, anche perché anche io ho una piccola incombenza, cioè il Giro d'Italia, la trasmissione di Michele di Lucia, arriverà fra poco anche sul mio telefonino, quindi non mi voglio trovare nella situazione imbarazzante che mi squilla il telefono di Radio Radicale e prendere cose così. Allora, che dire, dov'è che si devono discutere queste cose? Io penso che ci sia ancora un ulteriore problema. L'unico luogo dove si può discutere dei problemi interni all'area radicale in questo momento è il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, perché non ci sono altri organi dove si può andare a discutere. Le altre associazioni della Galassia hanno le proprie direzioni, però il parlamentino, quella che è l'Assemblea Nazionale, è l'unica è quella. Bisogna prendere atto che al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, quelli che sono stati eletti, la stragrande maggioranza delle volte arrivano a queste quattro riunioni canoniche all'anno, più una che è quella tecnica di decidere l'ordine dei lavori del congresso che si fa la mattina prima dell'apertura del congresso, quindi sono quattro le riunioni, se ne dovrebbero fare di più, se ne dovrebbero fare 7, 8, 10, non esiste soltanto Roma ma esistono strumenti online, noi che siamo il partito dell'online abbiamo perso per strada completamente questa cosa e il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani neanche funziona, perché la stragrande maggioranza delle persone elette arriva lì senza sapere di cosa si discute, cioè si arriva al Comitato con e vediamo che dice Marco e vediamo che dice la Bonino e poi vediamo la mozione che prepara la direzione, il tempo di parola che viene utilizzato è un po' uno sfogatoio delle questioni locali, un riepilogo dell'attività radicali delle associazioni di zona e tutto poi dopo si ripiega su se stesso, quindi sempre solo sulla compagnia un po' di giro dei dirigenti che più o meno da un certo numero di anni stanno là. Io ripeto, il problema c'è ed è molto forte, lo ha messo in evidenza molto bene Michele De Lucia all'ultimo congresso con il discorso economico, le risorse sono praticamente all'umicino, cioè ragazzi noi stiamo andando a una campagna elettorale dove il partito si può permettere di mettere a disposizione come materiale divulgativo i pdf in bianco e nero, stampateveli se li volete, se volete volantinare a spese vostre, questo è un problema molto serio. Quindi ripeto, tutta questa azione di consunzione, citando De Lucia, rischia veramente di portare a questa splendida galassia radicale al dissolvimento. Amnistia, giustizia e libertà, non lo so se questo processo elettorale è stato fra i più giusti, i più corretti perché onestamente non si capisce chi ha deciso e chi decide che cosa e come al solito quella componente militonta dei soliti noti viene sempre a galla perché poi crepante schiettando, freddo, caldo che sia, in mezzo alla strada si sta a cercare di ottenere il risultato e di portare le firme a casa perché si deve presentare alla lista. La domanda che io lascio in conclusione di questo intervento, per quanto tempo possiamo andare ancora avanti così? Allora, questa è una domanda veramente a cui vedremo chi potrà dare risposta. In conclusione intanto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, Marta e Marco che sono qui presenti, abbiamo cominciato in tre, siamo diventati quattro, siamo rimasti in due. Vi auguro buon lavoro per la raccolta firme, speriamo di riuscire, il LibriDV ha documentato già da martedì, se non sbaglio, un tavolo di raccolta firme a Roma con Mina Welby che era impegnata sulla strada a convincere persone e quindi a me è sempre pieno di entusiasmo e così anche gli altri militanti spazi in tutta l'isola, la legge spesso. Speriamo di riuscire, speriamo che questo Sibolo e speriamo che la ministria, che lo scopo finale si riesca a concretizzare in questa prossima legislatura. Io vi ringrazio a tutti quanti, troverete questo video registrato ovviamente sul Sibolo e sul YouTube. Grazie ancora a tutti a tutti quanti, continuate a seguire il LibriDV, oggi la diretta delle televisioni si rompe qui perché non abbiamo una leforia consueta, però ci sono vendito che potete vedere che sono sbagliati nella settimana sul sito, se vorrete, o sul canale di YouTube. Grazie e buonasera. Ciao! 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 Grazie a tutti